Giorgia Meloni Se ce l'ha il governo o no? Probabilmente no, perché mi pare che il governo abbia una responsabilità significativa con le sue scelte su quello che sta accadendo in Luguria. Sicuramente c'è un'idea molto chiara da parte di Fratelli d'Italia che è stato il primo partito a interrogare su questo il governo in Commissione Trasporti, sul tema del piano del Ministero delle Infrastrutture che di fatto, non sapendo conciliare la necessità per carità delle necessarie manutenzioni con quella della possibilità però per i cittadini, soprattutto in un momento così delicato, di spostarsi, di spostare le merci, di spostare i turisti, di spostare i malati. Sta creando il disastro che vediamo ogni giorno. Ecco, tra l'altro, giustamente diceva Porto, turismo, commercio, un po' tutte le imprese che hanno bisogno di spostarsi in questo momento, stanno subendo pesantissimi disagi. Le chiedo anche se a percezione dell'attività dei parlamentari Liguri, non ce n'è di Fratelli d'Italia, però c'è una lobby Ligure? Perché da qua si ha la sensazione che anche un po' la Liguria non sia adeguatamente rappresentata in Parlamento. Guardi, io non so dirle se ci sia una lobby Ligure. Magari a Roma uno la sente. Per carità, ogni tanto, insomma, qualche parlamentare Ligure lo conosciamo, soprattutto nel campo del centro-destra, diciamo che non ci è sembrato che in questi ultimi anni la Liguria sia stata rappresentata, guardi, non per un fatto di lobby, per un fatto strategico. Cioè io penso che una città come Genova, per intenderci, quindi tutta la Liguria, che sono la naturale porta dell'Europa sul Mediterraneo, dovrebbero essere la capitale delle infrastrutture. Cioè il simbolo, in questo il tema del ponte è un tema sicuramente importante, cioè il simbolo di quello che noi perdiamo ogni anno per la nostra incapacità di sfruttare la posizione geografica strategica che abbiamo. Quando io sento dire oggi ai cinesi, diciamo ai leader dello shipping, degli invii, che bisogna evitare il porto di Genova, a me cadono le braccia a terra. Così come quando sento che le merci che arrivano dall'est circunnavigano l'Europa e preferiscono Rotterdam o Amsterdam perché noi non abbiamo infrastrutture commerciali interne adeguate. Quando sento che perdiamo 70 miliardi di euro per l'assenza di infrastrutture commerciali. Penso che questo sia un tema, ecco, il tema dei temi di cui la Liguria è sicuramente... Non è solo la Liguria, cioè che le infrastrutture servano la Liguria. Esattamente, è un tema italiano, non è un tema italiano. Qualcuno dice anche che bisognerebbe intervenire con aiuti. Le faccio, insomma, le pongo un tema, quello della mancanza di continuità territoriale. Lei sarebbe d'accordo, visto che oggi oggettivamente in Liguria, non solo per le autostrade, ma poniamo il tema dei collegamenti ferroviari, basti pensare che anche il nodo ferivario di Genova doveva essere concluso nel 2016 e ripartono adesso i lavori, quindi con l'ennesimo lungo ritardo. Gli aeroporti, l'aeroporto, i voli, i collegamenti Genova-Roma hanno dei costi assurdi e le low cost non ci sono. Insomma, per tante ragioni Genova è isolata, la Liguria è isolata. Quale può essere una soluzione? Quella della mancanza di continuità territoriale, come avviene per la Sardegna, per esempio, o quale altra soluzione, secondo lei? Guardi, di soluzioni ce ne sono tante, appunto. Il tema della continuità territoriale può essere una delle ipotesi in campo, come il tema delle zone economiche speciali, è stata una ipotesi che in alcuni casi è stata utilizzata, mal realizzata. Io penso che la questione degli investimenti è di avere una classe dirigente capace di guardare non al prossimo mese, ma lasciare un segno del proprio passaggio, farci da questo punto di vista la differenza. Il fatto, per esempio, che l'amministrazione, l'aggiunta Toti in questi anni, e quindi sono fiera del ruolo anche di Fratelli d'Italia, ma insomma del lavoro che il centro-destra ha fatto, abbia utilizzato sulle infrastrutture tutte le risorse che aveva a disposizione, è un segnale. Poi ci vuole un quadro nazionale. Cioè, ripeto, la questione infrastrutturale, torniamo al tema di prima, è un tema che si può affrontare sicuramente a livello regionale, ma deve avere una visione a livello nazionale. Aeroporto di Genova, io parlerò, insomma, incontrerò i referenti, i dirigenti dell'aeroporto. Il punto per il quale noi abbiamo avuto su all'Italia la situazione che abbiamo visto è che in Italia non è esistita una seria politica del trasporto aereo, che passa per gli aeroporti, perché senza un'adeguata politica rispetto ai tuoi aeroporti non puoi tutelare neanche la compagnia di bandiera. Quindi è sempre una questione di visione strategica. Perché io penso che i governi che abbiamo avuto in questi anni, i giochi di palazzo, queste robe, qui non funzionino? Esattamente per questa ragione. Perché tu non puoi avere una politica capace di costruire una visione di sviluppo se quella politica, se quel governo non è tenuto insieme da una visione del mondo, ma solo dall'interesse. Salvare l'Italia ha ancora sempre un senso, bisognerà salvarla in eterno? Guardi, l'Italia si deve salvare soprattutto da se stessa, dalla sua incapacità di credere in se stessa, dalla sua incapacità di capire che le cose possono effettivamente cambiare, che noi non siamo una nazione spacciata, siamo una nazione nella quale c'è bisogno di fare alcune cose abbastanza semplici, abbastanza chiare e abbastanza coraggiose. Tutto parte dalla politica, ci piaccia oppure no, perché la politica è quella che fa le scelte. Io dico che in Italia serve andare a votare, mettere in campo un governo che sia lì 5 anni e che abbia i numeri per stare lì 5 anni, quindi un sistema elettorale maggioritario che dice che vince, vince, governa 5 anni, dopo 5 anni lo giudico, se ha lavorato male va a casa. Che cosa farei io in 5 anni? Una riforma costituzionale, presidenzialismo, elezione diretta del capo dello Stato, un governo che risponde ai cittadini. Serve la riforma della magistratura. Cioè serve costruire, la semplificazione, serve costruire 3-4 cose per cui in Italia c'è qualcuno che decide e si assume la responsabilità delle scelte, che è l'unica cosa che in Italia non si riesce a fare mai. A proposito di scelte che sono difficili da compiere, in un senso o nell'altro, in questo momento, in queste ore si sta discutendo anche di cosa accadrà dopo l'inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevra, il nuovo ponte di Genova. La revoca a società autostrade, ora nelle ultime ore Conte sembra aver preso una linea più decisa, ma nella maggioranza non tutti sono d'accordo. Fratelli d'Italia, bisogna riconoscere che da subito ha detto che la strada è quella della revoca per rispetto alle 43 vittime, però l'avevano detto anche i 5 Stelle, poi quando si tratta di governare compromessi, la strada è difficile. Sono passati due anni dal crollo e il ponte è quasi ricostruito, cosa ne sarà del rapporto con società autostrade ancora non è chiaro. Lei che cosa vorrebbe che sia deciso? Guardi, io come lei correttamente riporta, noi abbiamo avuto sempre la stessa posizione e non siamo i 5 Stelle. I 5 Stelle sono gente che chiacchiera bene, ma ha tradito il 100% delle promesse che aveva fatto. Fratelli d'Italia, da questo punto di vista, ha un altro modus operandi. Lì la questione è abbastanza semplice. Io non penso che la concessione ad autostrade vada revocata unicamente per il fatto del ponte di Genova. Il ponte di Genova, le oltre 40 vittime, il disastro anche di immagine, di economico che questo ha prodotto, sono stati la punta di un iceberg. Cioè quel fatto che impedisce di continuare a girarsi dall'altra parte. La ragione per la quale le concessioni vanno revocate è che sono dei contratti assolutamente intollerabili secondo il nostro codice civile, secondo il codice civile, norma il codice civile italiano. Un contratto che preveda che uno dei due contraenti ha degli obblighi, ma se non adeppi a quegli obblighi non accade niente, a casa mia è un contratto nullo. Le concessioni autostradali sono state in questi anni un pozzo di petrolio su cui gente che non era tenuta a fare assolutamente nulla era comodamente seduta a fare miliardi sulla pelle degli italiani che quell'infrastruttura l'avevano costruita. Io penso che le concessioni vanno revocate, punto. E sono anche convinta in cuor mio che Aspi perderebbe ricorso, come l'ha perso con la Corte Costituzionale quando si è rivalsa per l'esclusione dalla... Però probabilmente mettere d'accordo tante forze perché sostanzialmente rischiate anche voi di trovarvi in una situazione in cui si è trovato anche il Movimento 5 Stelle. Governava con la Lega, con la Lega su questo punto non sono riusciti a arrivare a una decisione. Guardi, io penso che sarebbe abbastanza semplice dire che tu, perché io non sono contraria assolutamente alla gestione privata dell'infrastruttura pubblica, ok? Quindi il tema qui per me non è nazionalizzare o gestione privata. Io sono per la proprietà pubblica delle infrastrutture, di tutte le infrastrutture. In Italia è un problema, per esempio, l'infrastruttura delle comunicazioni che è in mano straniera, incredibile, l'unica nazione al mondo. C'è oggi una mozione a prima firma Meloni su questo tema in Parlamento ma non è il caso di autostrade che sono di proprietà pubblica. La gestione deve essere privata, ma la concessione, la gara, la devi fare su dei presupposti che siano di vantaggio per il pubblico. Quindi io dico che queste concessioni così pensate vanno revocate e le infrastrutture vanno rimesse a gara pubblica secondo principi decenti che consentano al privato chiaramente di fare bene il suo lavoro e di avere un guadagno dal lavoro che fa, ma al pubblico di avere un vantaggio per cui tu non hai infrastrutture costruite con i soldi e miliardi degli italiani che stanno lì a arricchire qualcuno perché è amico di qualcun altro. E su questo penso che il centro-destra non avrebbe grande difficoltà a trovarsi d'accordo sulla difesa dell'interesse nazionale delle infrastrutture strategiche. Noi abbiamo fatto, insomma, è sempre il nostro lavoro e lo faremo anche in questo caso. Passiamo ad altri temi. Emergenza Covid, emergenza che viene prorogata. C'è ancora da aver paura del Covid secondo lei oppure una scelta politica? Qualcuno dice che ci sono altri interessi anche di gestione da parte del governo di tante cose, però in effetti i casi nel mondo ci sono ancora, in Italia stanno andando decisamente meglio, ma ci sono ancora. Qual è secondo lei l'errore se c'è stato nel prorogare fino a fine anno lo stato d'emergenza? Allora la proroga ancora non l'ha, insomma, se ne sta parlando. La questione è questa secondo me. Il Covid nessuno lo nega. E è un tema col quale noi avremo a che fare ancora per diverso tempo, penso. Però io non ho gli elementi per dire che si possa prorogare l'emergenza fino a fine dicembre e non intendo dare il mio assenso a alcuna proroga di emergenza a scatola chiusa. Quindi o Conte viene in aula e ci spiega che lui sa qualcosa, perché i servizi segreti, perché le sue task force gli hanno spiegato qualcosa che noi non sappiamo e ci convince, ma la vedo dura. Oppure quello che vedo io è un governo che cerca di utilizzare l'emergenza per rafforzare il suo potere, anche perché, scusi, noi saremmo l'unica nazione d'Europa che proroga l'emergenza. Che facciamo? Chiudiamo i confini con le altre nazioni europee? E soprattutto, che messaggio si dà dell'Italia quando tu dici che sei l'unica nazione d'Europa che proroga l'emergenza in un'Europa che non la sta prorogando? Anche per chi deve investire in questa nazione. Ma ci rendiamo conto dell'irresponsabilità che Conte dimostra quando fa queste uscite? Altro tema collegato. Il MES servirebbe per spese sanitarie, di cui evidentemente l'Italia ha bisogno, voi però siete assolutamente contrari. Perché in 30 secondi? In 30 secondi non è facilissimo. Il MES non sono soldi regalati, sono un prestito. E non sono soldi in più, perché sono un prestito che noi possiamo chiedere con i titoli di Stato sul mercato. Dicono che il MES sia vantaggioso perché i tassi di interesse sono basso, ma in realtà non guadagniamo neanche lì, perché essendo il MES un prestito senior, i nostri titoli di Stato probabilmente vedrebbero un aumento dei loro tassi di interesse. In compenso il MES è un tentativo dell'Europa di controllare la nostra politica economica. E su questo io non sarò mai d'accordo. Il dialogo Prodi-Berlusconi l'ha definito il bacio della morte, la morte di chi? Sembra il programma di Bonoli. Perché siamo alla fine, quindi ho più poco. Prodi-Berlusconi la so. Prodi-Berlusconi? L'ha definito il bacio della morte, la morte di chi? Eh beh, insomma, diciamo, della possibilità per gli italiani di avere quello che le dicevo all'inizio, un governo scelto da loro e non l'ennesimo inciucio di Palazzo. Grazie a Giorgia Meloni e voi che ci avete seguiti.